Abbiamo lavorato più di un mese, quattro persone e fisse che hanno fatto i turni anche di sera fino a notte inoltrata per terminare l'opera che come sapete è molto grande, è 2,80 per 1,70, quindi è un dipinto che normalmente si fa in 6-8 mesi abbiamo accelerato i tempi, comunque è venuto, ritengo, un buon lavoro Adesso faremo la firma, imballeremo l'opera, poi partirà per Londra e sarà donata una delle quattro associazioni che Re Carlo segue e promuove non sappiamo ancora quale, deve essere confermato dall'ambasciata di Londra presso la Santa Sede però sappiamo comunque che verrà destinato per opere di bene, questo è sicuro Direi che è una giornata che sicuramente ricorderemo, sappiamo che è un momento importante l'incoronazione di un re viene fatto dopo quasi 80 anni, quindi insomma è un evento molto molto importante partecipare in qualche modo, essere partecipi con questa opera per noi è un grande orgoglio Da cittadino tifernate ma anche italiano direi che comunque l'Italia dà un contributo importante fa vedere quello che è stato forse il momento più importante dell'umanità, cioè il rinascimento che con la letteratura ma con l'arte in questo caso e anche proprio con la cultura in genere da un esempio ancora oggi dopo più di 500 anni di quella che dovrebbe essere la vita, lo spirito della vita la bellezza comunque che porta solo bene e non porta male e distruzione insomma ecco